CNA Siracusa, ripartiamo insieme all'Assemblea Provinciale, legge il Presidente Rosanna Magnano e il Secretario Giampaolo Miceli. Nonostante il clima da fine estate che ha avvelato il pomeriggio, l'Assemblea Provinciale del CNA Siracusa, svolta ieri nell'Aula Magna dell'Istituto Einaudi, è stata contraddistinta da un'area di ottimismo e voglia di ripartenza palpabile, grazie anche alla numerosa presenza di associati e ospiti intervenuti nonostante le incertesse del meteo. Ad aprire i lavori, moderati dal giornalista Giovanni Polito e i saluti affidati a Nello Battiato, Presidente regionale del CNA Sicilia, e Giuseppe Cascone, Vice Presidente nazionale del CNA. La relazione di Innocenzo Russo, Presidente uscente del CNA Siracusa, entrisa di passione ed emozione, sancisce la fine del suo mandato e ricorda a tutti i presenti che CNA è unione, confronto e sintesi. CNA è una linea che mette insieme realtà tra le più diverse, un filo sottile che lega la costa con l'entroterra, un luogo che valorizza l'intelligenza e mette al centro sempre la micro e piccola impresa. Di altissimo livello è molto apprezzato l'intervento di Marco Romano, ordinario di economia e gestione delle imprese all'Università di Gatania, che ha ricordato l'importanza della formazione, ma non finalizzata soltanto al raggiungimento del famigerato pezzo di carta, bensì anche all'accumulo di esperienze personali sul campo, grazie proprio all'impegno degli artigiani delle micro e piccole imprese, vero patrimonio italiano, a patto che, spiega Romano, non sprechino energie a fare concorrenza al dirimpettaio, ma guardino al mercato in modo più aperto e con ampia visione. Maria Inglaieva Gallitto, presidente regionale di CNA Turismo e Nina Tanasi, presidente comunale di CNA Palazzo Lacrede, hanno poi dedicato un ampio focus a due dei settori trainanti in cui CNA si è particolarmente distinta per proposte e iniziative, ovvero il turismo e l'edilizia. Il super bonus, che tra alti e bassi è comunque stato il volano per il rilancio dell'edilizia, è di fatto un'invenzione del CNA, ha ricordato la presidente Tanasi. Presente all'Assemblea dell'On. Giovanni Caffeo, parlamentare regionale e segretario della Commissione di Attività Produttive, che ha ricordato gli obiettivi raggiunti grazie all'insostituibile lavoro svolto dalle associazioni di categoria e da CNA in particolare, stimolo continuo e punto di riferimento per la politica. Prima delle operazioni elettorali è stato il segretario nazionale di CNA Sergio Silvestrini a presentare la sua relazione all'Assemblea, intresa da una parte di orgoglio e soddisfazione per i risultati ottenuti e dall'altra di proposte e soprattutto auspici per il futuro, a cominciare dall'utilizzo dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, superiore a quelli del Piano Marshall, fino alle vaccinazioni che, secondo Silvestrini, devono essere fatte basta senza dubbi e fidandosi della scienza, perché rappresentano la più grande assicurazione per la ripartenza economica del Paese, evidentemente impossibilitato a subire nuove chiusure. Alla fine dell'operazione elettorale, l'Assemblea ha eletto all'unanimità Presidente Provinciale del CNA Siracusa, Rosanna Magnano, che ha ringraziato il Presidente, auspicando una collaborazione generale per risolvere insieme le questioni più importanti, mentre il Segretario Provinciale è stato eletto Gian Paolo Miceli. I componenti eletti della Presidenza sono, oltre alla stessa Rosanna Magnano, Gianluca Bottaro, Nunzio Samarelli, Fabio Cannavà, Marcella Monaco, Alessandro Celeste, Giuseppe Bellanza, Giovanni Castro e Daniela Romeo. Qualche momento di convulsione è una standing ovation al termine dell'Assemblea per l'intervento di Pippo Gianni Noto, storico segretario di CNA che lascia il suo ruolo non senza aver ricevuto una targa di riconoscimento su cui è stata incisa una poesia letta dal poeta Alessandro Doscini, ma soprattutto dopo aver ringraziato tutti, presente non per un percorso memorabile destinato, ha concluso Gianni Noto, a proseguire senza dubbio ancora più luminoso.